se noi malediciamo la nostra vita con le nostre stesse parole raccoglieremo maledizioni ma quando tu dici è più forte di me già stai dichiarando che hai perso una delle fortezze più grandi è il rancore perché è bello marina cercare di capire come si sono formate queste fortezze attraverso quello che hai visto attraverso quello che hai sentito attraverso quello che hai odorato attraverso quello che hai mangiato e attraverso quello che hai toccato età di quattro anni cinque anni in bicicletta ti guarda televisione ti vede una scena di sesso scabrosa che sta passando violentamente così sembra che il bambino sia distratto sta parlando con sua parte quel flash rimane nella mente di quel bambino quel bambino non se la toglie più dalla mente e comincerà a pensare che il rapporto fra uomo e donna è una cosa sporca perché ha visto un flash brutto malvagio tu direi che non serve tu sei una cosa inutile non farai mai niente nella vita e quando poi cominciamo a fallire nella vita certo mi pace a morire c'era io il gioco posso arrivare non posso fare chiudente tu mi assomiglia a tuo zio si dà la stessa cosa era e invece dirlo di quattro anni di cinque anni comincia a credere poi quando la vita lo metterà di fronte a certe situazioni vero è lui è preparato a ricevere la maledizione è pronto i sensi hanno trasmesso al nostro cuore e alla nostra mente delle impressioni di cui non riusciamo a sbarazzarci perché le sberle che noi continuiamo a prendere nella nostra vita perché noi scappiamo 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 e c'è una crisi ma la crisi che ne sta mangiando via non sapevamo sta crisi nel nome di gesù il mio dio supplirà ogni mio bisogno secondo la sua potenza in gloria basta quando noi parliamo fatalmente come se noi dicessimo signore io sogno giusto ma per chi ne cangiacchisti che non vogliono cambiare confessare con la bocca credere col cuore certo l'età c'è la 6 9 70 anni sa che mi aspetta nel nome di gesù salute abbondante 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 di ogni tipo meglio di quando uno è giovane ma quanti gradi ci sono fuori ci sono 31 gradi ma quello segna 33 come mai che ha finito ci batto su se tu ti sei riconosciuto stasera in qualcuna delle fortezze di cui si è parlato e soprattutto se le tue certezze vacillano è probabile che si sta formando una fortezza nella tua mente